Ugo Iezzi, inventore del Lunario, siamo giunti alla 36esima edizione. Qual è il tema di quest'anno? Il turismo di ritorno è più precisamente il brindisi delle radici. Quindi questo Lunario che mette assieme fumetto e dialetto ha deciso per l'anno 2023 di parlare di un tema molto importante che sta a cuore sia al Ministero degli Esteri perché il Ministero degli Esteri ha deciso di celebrare nel 2024 l'anno delle radici ma soprattutto agli idolo discendenti che Lenit ha calcolato sono quasi 8 milioni di persone che verranno sicuramente, torneranno di nuovo per visitare i luoghi dei loro avi nel nostro bel paese. Donato Fioriti è risaltato all'occhio il fatto che per questa 36esima edizione, per questa presentazione era stato invitato l'attore Christian De Sica. Ha risposto al vostro invito? Allora, Christian De Sica formalmente non ha risposto. Noi siamo stati i primi a uscire come giornalisti agroalimentari nazionali a Federazione della Stapa Italiana e io in primis come segretario generale chiedendo di ritirare il trailer. Abbiamo apprezzato che è stato ritirato questo trailer. Subito dopo il governatore della regione Abruzzo ha fatto una proposta che noi abbiamo sposato e abbiamo cercato di far perverire a De Sica, cioè quello di uno spot riparatore, anche simpatico come è nelle corde di questo grande artista. Al momento non abbiamo risposte ufficiali e formali, però non disperiamo. Abbiamo pochi giorni fa invitato De Sica a questo incontro per una sbicchierata, però in questo non abbiamo avuto risposte. Non disperiamo che quella proposta del governatore che abbiamo fatto anche nostra, cioè di uno spot riparatore, possa essere di preludio a una bella iniziativa anche insieme ai giornalisti enogastronomici.